Alle bambini e ai bambini che intraprendono il loro primo viaggio educativo entrando nei nidi, ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, agli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie, ai loro insegnanti, alle loro famiglie, ai dirigenti, faccio il mio migliore augurio di inizio di un nuovo anno scolastico, un anno che ci vede impegnati ancora a contrastare in parte il rischio di pandemia, ma che ci vede anche fiduciosamente impegnati nella ricostruzione dei legami educativi. Sarò sempre al vostro fianco e spero di potervi garantire la migliore qualità possibile del vostro percorso educativo.